Mentre usciva, gli ha detto qualcosa di strano, un po' avanissi. Sì. Mi ha paura, mi ha dato a sé. Mi ha seguito cosa l'ha fatto. Eh. Ha chiamato la mia stessa macchina. Eh. S'ha messo in macchina. Non è stocca. Una mitraglietta. E' andato in giro. Lui non conosceva cosa l'ha fatto. Eh. Sono entrato. Giorgio ero animato. Eh, era fatto. Non mi sentiva le botte. Praticamente. Stasera le canne lunghe. Io ce l'avevo qua sul braccio che mi ha sparato il petto. Qua sulla testa. L'ho tirato un pendolo. Non è mica la peraltro. Sto bene. No. 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 No.